Sì, finalmente si riparte con i lavori della Fano Grosseto. Ho avuto sempre la sensazione che c'era una non volontà di andare avanti, partecipando ai tavoli nazionali, regionali, insieme a tutti gli altri sindaci che ci siamo sempre battuti insieme, ma avevo la sensazione che non c'era la volontà di andare avanti. Invece, dopo l'insediamento di questa giunta regionale, devo dire che già dal 2020, dalla fine del 2020, nel 2021, le cose sono assolutamente cambiate. Chiaramente questo comporta anche dei disagi. Capisco che i cittadini preoccupati, io l'altra sera ho partecipato a questa assemblea a Mercatello, dove i cittadini sono preoccupati perché ripartono i lavori nella fase di costruzione, e comunque prima del quarto lotto, degli altri lotti, si dovrà passare in una strada provinciale che viene assolutamente molto migliorata, ma che sicuramente comporterà dei disagi. Comporterà dei disagi su tutta l'asse, quindi anche a partire da Urbino, Fermignano, Urbagna, Sant'Angelo, però è una fase che noi dobbiamo in qualche modo superare. Però ecco, io credo che è un momento nuovo, è un momento completamente nuovo. Il 21 settembre si aprono le buste per l'attuazione della galleria, quindi il consolidamento e le uscite, le entrate di questa galleria, ma ho sentito dire delle cose anche da un collega sindaco dell'Umbria che dice che l'Umbria non è d'accordo. Io ho partecipato a quell'incontro. Assolutamente l'attuale presidente dell'Umbria e delle Marche e della Toscana che sono assolutamente allineati sul fatto che la Fano Grosseto va realizzata. È un momento importante, dobbiamo chiaramente salvaguardare il più possibile l'ambiente, le persone, la viabilità, la sicurezza, perché la preoccupazione dei sindaci è anche questa, giustamente come per tutti noi, però ecco non possiamo dire che non vogliamo la strada, perché dire che non vogliamo la strada veramente vuol dire affossare questa provincia. Io chiedo chiaramente collaborazione, devo dire che c'è stata una grossa disponibilità, i sindaci l'hanno percepita in quella riunione, a veramente andare avanti. Tutti i lotti dal 4 al 10 sono in progettazione esecutiva, con un commissario che è stato nominato dal governo, con i progetti esecutivi il governo uno a uno li finanzierà tutti, mani in mano che vengono realizzati. Quindi dobbiamo, secondo me, io non l'ho mai detto, non ho mai parlato di Fano Grosseto da quando sono sindaco, proprio perché era vergogna solo a parlarne, perché ormai era talmente lontano l'ipotesi di andare avanti, ma in questo momento io veramente mi sento di dire siamo nella svolta definitiva per completare questa strada che darà un grande sviluppo e permetterà ai nostri cittadini, ai nostri figli, ai nostri nipoti di andare in Umbria in mezz'ora, di andare a lavorare o venire a lavorare dall'Umbria nelle Marche o far venire i turisti da Firenze che magari invece fanno altre strade o da Siena o dalla città della Toscana e dell'Umbria e viceversa, credo che questo porterà uno sviluppo e una rivitalità, una vitalità nuova e anche quel famoso discorso del spopolamento dell'entroterra. Credo che questo sacrificio vada fatto di disagio perché è necessario per il nostro futuro. Però ecco, volevo ringraziare tutti gli organi di governo, l'ANAS, il commissario, tutti i sindaci che si sono sempre battuti e impegnati, però ecco, purtroppo finora non ci eravamo mai riusciti. Adesso è arrivato il momento di tenere compatta le file e procedere per finire di realizzarla.